Buongiorno, così Barack Obama accoglie i giornalisti italiani e Matteo Renzi nello studio vale della Casa Bianca, caos libico, dramma dell'immigrazione, crisi greca, conflitto russo-ucraino, un incontro fortemente voluto. Renzi discute con l'uomo più potente del mondo, dei tanti dossier aperti, della politica internazionale. Si parte dalla Libia, l'Italia ha un ruolo centrale nel Mediterraneo, dice Obama, che garantisce il sostegno di Washington per la stabilizzazione della Libia. Ma si parla anche di Italia, sono molto impressionato della volontà di fare le riforme del governo italiano, sottolinea ancora il presidente americano, da parte sua Renzi incassa gli elogi di Obama anche sull'Expo di Milano. Grazie per ringraziare il presidente degli Stati Uniti d'America per la straordinaria leadership che sta esprimendo sia a livello di politica estera che nel modello economico e di sviluppo.